23 domande per piccoli prestiti sono arrivate solo negli ultimi mesi agli sportelli della Caritas di Vittorio Veneto. Si tratta di finanziamenti da 1.000 a 3.000 euro che la diocesi vittoriese sostiene grazie al progetto microcredito con la banca di credito cooperativo della marca, partito ormai quasi due anni fa. Numerose poi anche le richieste di denaro per il pagamento delle bollette, poche centinaia di euro indispensabili però per chi è in difficoltà. A questo si è aggiunto dal primo maggio il fondo di solidarietà come auspicato dai vescovi del Triveneto nella dichiarazione con chi è nel bisogno. L'importo iniziale di 100.000 euro a favore di famiglie e persone residenti nella diocesi di Vittorio Veneto che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica. A pochi giorni dall'inizio le domande di aiuto arrivano già a pioggia a testimonianza del fatto che la crisi c'è e grava soprattutto sulle fasce deboli della popolazione. C'è una situazione veramente che fa riflettere fa pensare e ci sono delle situazioni di disagio e anche delle situazioni molto precarie e di estrema povertà. Il fondo di solidarietà quindi è per tutta quanta la diocesi, già ci sono delle domande perché hanno visto dai giornali quindi sono delle domande di famiglie, persone o attraverso i parroci o attraverso gli assistenti sociali che chiedono questo fondo di solidarietà e cosa bisogna fare quindi c'è un regolamento, ci sono dei documenti da presentare. Ma oltre agli aiuti economici la diocesi vittoriese propone al fianco del fondo di solidarietà delle tappe educative per insegnare nuovi stili di vita all'insegna della sobrietà. Questo lo faremo anche attraverso il giornale L'Azione che è il giornale diocesano in maniera che pubblicheremo un po' come va avanti il fondo di solidarietà ma nello stesso tempo anche alcune indicazioni per dei stili di vita, di sobrietà, di discrezione. Ecco quindi per noi è essenziale che ci siano questi due aspetti da tenere presente.